Ogni anno la scuola materna ed elementare di Via Piani assegna il premio bontà ai piccoli alunni che si sono distinti per meriti scolastici e per spirito di abnegazione per i compagni, dando il senso reale del premio istituito dalla famiglia Landi che ogni anno ricorda la piccola Maria Pia morta precocemente a cui è intitolato l'istituto scolastico di Via Piani. E' un appuntamento che ogni anno ci prende dal punto di vista emotivo e non solo. Ricordare Maria Pia è diventato effettivamente un impegno costante che la comunità aspetta con ansia, la comunità scolastica e non solo. Ringrazio la dirigente che tiene tanta cura per questo plesso che è intitolato appunto a mia sorella. Ringrazio gli amministratori per quanto fanno, li invito a fare sempre di più perché tutto quello che si fa per i bambini sicuramente si ritroverà nel futuro. La piccola Maria Pia ha da sempre mostrato di avere un'accentuata sensibilità, tanto da aiutare i propri compagni in difficoltà, un animo gentile e con particolari attitudini per le discipline scolastiche. Una bambina che nonostante l'età così piccola si distingueva per essere molto generosa, molto comprensiva, molto solidale nei confronti dei compagni di scuola e nei compagni di gioco. E quindi da questa serie di testimonianze dobbiamo presumere che effettivamente fosse una bambina straordinaria.